Luce e sapienza su chi ascolta. Come è noto da chi segue queste trasmissioni, le ultime ultimissime trasmissioni, abbiamo nelle ultime trasmissioni parlato specificamente del maligno e della sua azione malvagia verso gli uomini e casualmente, ma non esiste il caso, esiste la provvidenza di Dio, ecco provvidenzialmente è di questi giorni una notizia agghiacciante che comunque era saputa evidentemente, era conosciuta, ma casualmente diciamo tra virgolette il quotidiano dei giorni scorsi ha riportato due pagine intere addirittura, due pagine intere in cui vengono testimoniate delle cose incredibili che avvengono nel nostro territorio. Ecco, il quotidiano con due pagine piene fa un servizio terribile e titola Sacrifici di sangue all'altare di Satana. Il sottotitolo nel crotonese gruppi di giovanissimi dediti a rituali a base di sesso, droga e alcol alla ricerca del contatto con il male. E poi sulla destra c'è un'immagine che ritrae le sembianze del maligno, così come è raffigurato nella iconografia popolare e testimonianze di personaggi e di uno in particolare che è presente, è stato presente a queste azioni di abboniche, a queste sedute spiritiche fatte da un pubblico variegato ma soprattutto da giovani, da giovanissimi addirittura che partecipano a questi riti diabolici e addirittura c'è un cane impiccato, c'è l'immagine di un cane impiccato perché in questi rituali a base di sesso, a base di orge, a base di alcol, a base di droga, si usano i segni sacri, le croci rovesciate, con i furti sacriliche sacriliche di ostie, vengono profanate le ostie consacrate e c'è tutto un rituale magico che si presta alla adorazione del culto diabolico. Ed è appunto di questi giorni, di queste ore, questa notizia terribile e tra l'altro un sociologo, un certo Andrea Menegotto, che è un ricercatore del Cesnur, il centro studi sulle nuove religioni, questo centro studi diretto da Massimo Introvigne, che è un sociologo cattolico, anche questo Andrea Menegotto è un sociologo cattolico e dirigono questo centro di studi a Torino, che è il Cesnur, centro sulle nuove religioni, che è stato fondato nel 1988 da un gruppo di accademici e che si pongono in modo laico nello studio di questi fenomeni. Laico non vuol dire laicista, vuol dire solo che non partono da un punto di vista di fede espresso, ma da un punto di vista oggettivo, di ricerca scientifica. E questo sociologo Andrea Menegotto, della scuola del più conosciuto Massimo Introvigne, dice così nel suo articolo. Il satanismo è un fenomeno che desta attenzione e preoccupazione in numerosi ambienti. Nella letteratura giornalistica è spesso confuso con fenomeni diversi, come la neo-stregoneria, il neo-paganesimo, la magia cerimoniale o altre forme di magia o religiosità, a volte oggi veicolata dal mondo dell'immigrazione, soprattutto Sud America. È il caso dei culti afro-brasiliani come il candomblé, la macumba e l'umbanda, afro-haitiani quali il voodoo e afro-cubani quali la santeria, da cui va invece rigorosamente distinto. Inoltre, aggiunge questo studioso sociologo, anche se la confusione è comune, ancora una volta nelle indagini giornalistiche, nonché nella volgata popolare, il satanismo è un fenomeno diverso dalla possessione diabolica. Certo, aggiunge il sociologo, teologi ed esorcisti riferiscono che una frequentazione di gruppi satanisti può diventare per talune persone una porta aperta alla possessione, così come in generale la familiarità con altre pratiche occultistiche e in particolare con lo spiritismo, che nel mondo giovanile comporta l'evocazione di spiriti defunti attraverso sedute spiritiche spesso improvvisate, ma non per questo esenti da rischi di carattere psicologico e spirituale per gli sproveduti partecipanti. Dunque, continua il menegotto, satanismo e possessione sono fenomeni sostanzialmente diversi. Mentre il satanista, dice, cerca il diavolo con invocazioni, riti, uno stile di vita che esprime la sua sottomissione al principe di questo mondo, il posseduto viene trovato dal diavolo senza che necessariamente lo ricerchi e lo veneri. Infatti, gli esorcisti riferiscono ugualmente casi di possessione o di ossessione diabolica di cui sono vittima persone che non hanno mai avuto a che fare con l'occulto e perfino buoni cristiani. Dunque, in senso stretto, conclude l'articolo, il satanismo è un movimento che si interessa al personaggio chiamato diavolo o satana nella Bibbia e ne fa il punto di riferimento principale della sua ritualità. A dispetto delle cifre molto maggiori fornite spesso dai mass media, i gruppi di satanisti organizzati non radunano una percentuale significativa della popolazione italiana, anche se l'esperienza vissuta può naturalmente essere seria e grave per le persone coinvolte. Ecco qui, questo articolista, questo sociologo, sulla scia del suo, come dire, del suo ad director, che è Massimo Introvini, che in un altro suo libro intitolato proprio Satanismo, un piccolo libretto, ha sostenuto più o meno le stesse cose. Questa distinzione sociologica tra possessioni, riti satanici e cose di questo genere. Ora, loro lo ricordano sia lui sia Massimo Introvini, nel suo libretto Satanismo aveva distinto l'aspetto sociologico dell'approccio dall'aspetto teologico, perché loro si pongono proprio specificamente dal punto di vista dell'approccio laico, cioè non fideistico, dall'approccio scientifico. Però, resta che la sociologia, come tutte le altre scienze umane, è una scienza indicativa, che si esprime all'indicativo. Sono la filosofia e la teologia che si esprimono al modo imperativo, perché solo la filosofia e la teologia giudicano. Le scienze umane, psicologia compresa, non giudicano, non possono giudicare. Non è nella loro natura epistemologica poter giudicare, perché questo è il compito proprio della scienza più alta, che è la filosofia. L'altro giorno si è tenuto qui a Crotone, alcuni enti hanno programmato, c'è stato un professore all'università di Cosenza, che è venuto a relazionare tra filosofia e scienza, rapporto filosofia e scienza. E questo filosofo sosteneva la tesi che è comune a tutti i filosofi di oggi, cioè quella che a partire da un certo punto in poi della filosofia, come ho avuto modo qualche volta di dire in queste trasmissioni, la filosofia dallo studio della conoscenza dell'essere oggettivo in sé, del reale, si è trasformata, da un certo momento storico in poi, in soggettivismo gnoseologico. Cioè ogni filosofo a partire da un certo punto in poi, come ho ricordato nel mio intervento in quella sede, da d'un scoto in poi ogni filosofo ha preteso, e poi passando per Bacone, per Cartesio, per Kant, Hegel e tutti gli altri, ogni filosofo ha preteso di riscrivere la pagina filosofica. Il che è un assurdo. Il che è un assurdo. E i filosofi che insegnano filosofia oggi insegnano che esistono tante filosofie quanto sono i filosofi che si sono succeduti nella storia, o che possono succedere nella storia. Ma così non è, così si vanifica il concetto stesso di sapere. Nella sua, evidentemente di questo discorso lo affronteremo un'altra volta, nella sua specificità, resta che la filosofia, la vera filosofia, quella che viene chiamata da Leibniz in poi, viene chiamata filosofia perenne, cioè la filosofia aristotelica-tomista, aristotelico-tomista, che è quella fatta proprio dalla Chiesa. Beh, questa filosofia perenne, che dura al di là dei cambiamenti di mode culturali, questa filosofia perenne e oggettiva, ritiene la filosofia giudicatrice. La filosofia, come la teologia, giudicano ciascuno dal proprio punto di vista. La filosofia dal punto di vista della ragione naturale, la teologia dal punto di vista della ragione informata dalla fede. Ma tutte e due giudicano, sono scienze giudicatrici, perché il giudizio della sapienza, l'abbiamo accennato la volta scorsa, è dato dalla scienza più intelletto. La filosofia è scienza, è scienza più qualche altra cosa, è scienza più intelletto, e questo fa la sapienza. Il compito proprio della sapienza è di giudicare. Una filosofia che non giudica, decade dal concetto stesso di filosofia. Questo dal punto di vista epistemologico. Ma nello stesso statuto epistemologico, le scienze umane non possono giudicare, non ne hanno la capacità intrinseca per giudicare, non sono organizzate queste scienze per giudicare, che è attività proprio della sapienza. Le scienze umane possono esprimersi solo all'indicativo. E allora, quando l'Andrea Menegotto, sulla scorta del direttore del CESNUR, Massimo Introvini, vorrebbero introdurre questo piano teoretico di distinzione tra possessione diabolica e arriti satanici, e cose di questo genere, ebbè, prendono un abbaglio, non sanno quello che dicono, perché è il giudizio teologico quello che in queste faccende soprattutto deve contare e deve valere. E il giudizio teologico è ben diverso. Quando l'azione diabolica, come stavamo stavendo la volta scorsa, si intensifica e passa dalla tentazione, dalla semplice tentazione con cui spinge le facoltà dell'uomo a commettere il male, si passa poi a un grado successivo, che è l'ossessione. L'ossessione è ancora l'azione diabolica dall'esterno ancora, non certo dall'interno, ma è molto più pressante rispetto alle facoltà dell'uomo, sia alle facoltà sensibili, quindi alla vista, perché il maligno in questo caso si manifesta molto più sensibilmente alla vista, con immagini, all'udito, con rumori particolari, all'intelligenza e alla volontà, spingendo a pensieri perversi e spingendo la volontà ad operare cose perverse, però questa azione resta ancora all'esterno. Mentre nella possessione diabolica vera e propria, allora lui si frammezza tra l'anima e il corpo. Abbiamo detto tante volte che nella persona umana l'anima, lo spirito, è il principio vivificatore dell'anima e del corpo e delle azioni morali, delle azioni umane. nei casi di possessione il demonio si frammezza e come se si mettesse tra l'anima e il corpo e muove il corpo. Santo Maso d'Aquino specificherà che l'azione diabolica nel caso di possessione non è che il diavolo diventa forma del corpo come l'anima umana è forma del corpo perché muove direttamente per sé. Santo Maso d'Aquino fa l'esempio di un capitano di un capitano o di un motore di una nave. Ciò che muove formalmente la nave è il motore ciò che muove formalmente il corpo è l'anima o spirito ma come nel caso dell'esempio della nave il capitano dirige il timone è il motore che muove la nave ma il capitano con il timone muove la barca la nave a muovere ad est ad ovest a sud e a nord. Così spiega Tom Maso d'Aquino è l'azione diabolica del maligno quando si impossessa del corpo di un uomo non si sostituisce all'anima come primo principio vivificatore del corpo però agisce come il timoniere nel senso che guida il corpo a fare quello che lui dice quello che lui vuole. Ecco allora che queste distinzioni dal punto di vista sociologico tra possessione diabolica satanismo folk magic cioè magia popolare come viene chiamata in linguaggio sociologico occultismo magia cerimoniale neo stregoneria wicca e tutte definizioni che sono tipiche proprie della scienza sociologica hanno poca rilevanza dal punto di vista della teologia da quale teologia giudica giudica l'essere nella sua realtà loro i sociologi pongono una differenza essenziale tra questi diversi aspetti tra possessione satanismo folk magic pongono una distinzione essenziale ma proprio perché sono scienze indicative che non giudicano la teologia invece che giudica che cosa dice dice che per fare un esempio come il bianco per esempio l'essenza del bianco è unica questa essenza prendete dei fogli di carta di diversa natura c'è un bianco più chiaro un bianco più scuro un bianco che dà più all'occhio più aggressivo un bianco meno meno è fluorescente però è sempre bianco cambia la gradazione ora il cambio di gradazione non cambia la natura di una cosa un oggetto bianco ha la natura del bianco ha l'essenza del bianco così tutte queste diversificazioni che vengono poste dal punto di vista sociologico sono delle differenziazioni di gradi che non toccano punto l'essenza la natura del fenomeno e la natura o essenza del fenomeno è l'azione diabolica che agisce sempre allo stesso modo è lui che agisce sempre allo stesso modo per cambiando evidentemente l'intensità della sua azione ma agisce dietro le quinte e questa diversificazione può essere data in tanti modi perché il demonio si presenta nella divinazione che è il secondo ospetto di peccato di idolatria di cui abbiamo parlato l'altra volta si manifesta l'azione diabolica o compatti taciti o compatti espressi compatti taciti per esempio nell'astrologia che calcola la data l'ora di nascita e così via con nei sorti leggi che è fatto attraverso il gioco delle carte attraverso la lettura delle carte attraverso il gioco dei dadi oppure l'augurio che osserva il canto degli uccelli e questo è un patto inespresso un patto tacito attraverso il quale il demonio agisce ed ispira e poi ci sono i patti espliciti i patti espressi e in questa forma seconda forma di manifestazione più piena avvengono fenomeni come il prestigio quando alcuni fenomeni appunto si offrono alla vista e all'udito azioni prodotte dal maligno si offrono alla vista con sembianze immagini rese sensibili del demonio stesso oppure all'udito con con musiche particolari con parole particolari con suoni particolari la definizione onirica per esempio è quella che avviene nei sogni anche lì c'è un'azione diabolica oppure nella necromanzia che consiste nella apparizione dei morti noto il caso biblico dell'apparizione a Saul di anime trapassate oppure ancora la geomanzia quando la divinazione viene fatta attraverso gli elementi terreni di terra oppure l'idromanzia quando questa lettura viene fatta attraverso attraverso l'acqua o l'aeromanzia quando viene fatta attraverso i segni dell'aria o la piromanzia attraverso il fuoco l'arospicio attraverso le viscere animali come si faceva soprattutto nel passato e tutte queste sono azioni diaboliche che intervengono per parti espressi tra le creature e il diavolo stesso e quindi alla alla base di ogni azione diabolica che si configure dal punto di vista sociologico come si voglia c'è sempre alla base il peccato dell'uomo che dà diritto al diavolo di poter intervenire e che diversifica questa sua azione a seconda del grado di peccaminosità e grado di intensità e grado anche nel senso di tempo del peccato della creatura e grado di permissione della volontà di Dio il fatto poi che questo sociologo il Menegotto come anche nell'altro suo studio precedente lo stesso lo stesso Massimo Introvigne che è il direttore del Cessno avevano come dire indicato delle possibilità diverse no? anche come lettura teologica assumendo dei dati forniti dalla storia della vita della Chiesa o la storia stessa della teologia per esempio come il caso notissimo del di un confessore di padre Suren ecco questo confessore che dirigeva la vita spirituale nel convento di Ludun di Suore che stavano a Ludun ebbe lui pure e lui faceva era un esorcista e faceva spesso esorcismi a un certo punto lui stesso per lungo tempo fu invaso dai demoni e allora sulla scorta di questo di qualche altro piccolo caso che è succeduto nella storia si tende dal punto di vista sociologico a ritenere a interpretare questa possibilità di possessione non solo nella presenza e nella dinamica del peccato da parte della creatura ma anche in altre circostanze che però non sono giustificate non sono giustificate perché alla base c'è sempre il peccato direttamente o indirettamente nella stessa situazione del padre Suren che viene generalmente presa a testimonianza a prova di questa possibilità che la possessione diabolica non dipenda direttamente dal satanismo ma che può riguardare anche persone di una certa vita spirituale c'è qui la testimonianza del padre Suren che io vi voglio leggere per cogliere il punto preciso dice il padre Suren io non so dire quello che passa in me durante questo tempo né come tale spirito si unisca al mio senza togliermi né la coscienza né la libertà sta parlando al momento in cui lui fa l'esperienza della possessione diabolica egli sta là come un altro io si riferisce allo spirito diabolico mi pare allora di avere due anime una delle quali prima dell'uso dei suoi organi corporali e mantenendosi come a distanza contempla quello che fa l'altra i due spiriti combattono su un medesimo campo di battaglia il corpo l'anima rimane come divisa aperta da una parte alle impressioni diaboliche libera di seguire dall'altra i propri movimenti e quelli di Dio nello stesso tempo con il placito di Dio sperimento una grande pace e non acconsento alle sollecitazioni che tentano di separarmi da lui con grande sorpresa di coloro che mi vedono sono allo stesso tempo pieno d'allegria e imbevuto ad una tristezza che si manifesta in lamenti e grida secondo il capriccio dei demoni sento in me lo stato di condanna e lo temo questa anima estranea che mi para la mia è trapassata dalla disperazione come da una freccia mentre l'altra piena di fiducia disprezza tali impressioni e maledice con piena libertà colui che le eccita riconosco che le grida che escono dalla mia bocca partono ugualmente da queste due anime e non mi è possibile precisare se è l'allegria o il furore a determinarle il tremore che mi invade quando si avvicina a me l'eucarestia proviene mi pare dall'orrore che mi ispira questa prossimità e da un rispetto pieno di tenerezza senza che possa dire quale di questi due sentimenti predomini se sollecitato da una di queste due anime voglio fare il segno della croce sulla bocca l'altra mi ritiene il braccio con forza e mi induce a prendere il dito con i denti e a morderlo quasi con rabbia durante queste tempeste l'orazione costituisce la mia consolazione ad essa ricorro mentre il mio corpo rotola per terra e i ministri della chiesa mi parlano come ad un demonio e pronunciano maledizioni su di me non posso esprimervi quanto mi sento felice di essere un demonio di tale sorta non per una ribellione contro Dio ma per un castigo che mi scopre lo stato nel quale mi ridusse il peccato e mentre faccio proprie le maledizioni che si pronunciano la mia anima si può inabissare nel suo nulla ecco qui la testimonianza stessa del padre Suren che viene assunto come modello di un'anima che senza peccato può ricevere l'influsso della possessione di Abolchia non è così perché lo stesso padre Suren dice espressamente non posso esprimervi quanto mi sento felice di essere un demonio di tale sorta non per una ribellione contro Dio ma per un castigo che mi scopre lo stato nel quale mi ridusse il peccato ecco allora confermata la tesi teologica comune a tutta la teologia e che cioè è sempre il peccato che è la causa alla radice della possibilità stessa radicale della possessione diabolica c'è anche qualche altro caso nella storia della spiritualità cristiana ma che è riportabile sempre a questa considerazione che abbiamo fatto per cui per cui la possessione diabolica come i riti satanici come tutti quei patti scellerati che vengono fatti dall'uomo con il demonio hanno alla base sempre il peccato e dei patti otaciti che l'uomo rivolge alla bestia o dei patti espressi attraverso i quali la creatura vuole fare l'esperienza del proibito l'esperienza di ciò che è proibito è l'eterno frutto che satan offre all'uomo e oggi più che mai l'uomo morde a questo frutto che è dolce al palato ma quando entra morde le viscere morde le viscere e produce una morte che è inconcepibile a mente umana ora io vorrei concludere questa trasmissione con con un po' di dolcezza spirituale e una priera che Gesù ha rivelato a un'anima e dice così dice Gesù scrivi so signore che i giorni in cui mi fai piangere di più sono quelli in cui mi fai più guadagnare perciò grazie di farmi piangere so o signore che i giorni in cui mi fai soffrire di più sono quelli in cui mi fai più sollevare gli altrui dolori perciò grazie di farmi soffrire so o signore che i giorni in cui mi fai più spasimare perché ti nascondi sono quelli in cui tu vai ad un mio povero fratello che si è perduto perciò grazie di questo spasimare so o signore che i giorni in cui lasci su me l'onda amara della desolazione che sa già del sale della disperazione sono quelli in cui io ti rendo ad un fratello disperato perciò grazie per quest'onda amare so o signore che le tenebre che mi fanno cieco che la fame che mi fa languire che la sete che mi fa morire per te di te serve a ridarti luce fonte e cibo a chi muore di tutte le morti perciò grazie delle mie tenebre della mia fame della mia sete so o signore che le mie spirituali morti sulla tua croce sono risurrezioni ad altre tante morti alla tua croce perciò grazie di farmi morire perché io credo signore che tutto quanto tu mi fai è per mio bene e per un fine di bene e per la gloria di Dio bene supremo perché io credo che ritroverò tutto questo quando il vederti mi smemorerà di tutto il dolore subito perché credo che la mia gioia sarà aumentata per ogni soffrire perché credo che essa si ornerà dei nomi di coloro che io avrò salvati col mio soffrire perché credo che per le vittime non c'è giustizia ma solo amore perché credo che il nostro incontro sarà sorriso sarà bacio il tuo bacio Gesù amore che mi lasciugherà ogni traccia di pianto perché credo tutto questo io ti ringrazio delle mie non numerabili spine e ti amo di moltiplicato amore tu mi hai dato non la parte di Maria che è la migliore ma la tua stessa che è la parte perfetta il dolore grazie Gesù 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 Grazie a tutti.